Il fumetto in fondo è un mondo che attinge a tanti altri mondi diversi e che però potrebbe essere utilizzato da altre forme di espressione. Io penso al cinema, mi viene automatico pensare a un collegamento e quindi alla possibilità di portare al cinema certi personaggi, ma semplicemente di far lavorare nel cinema chi lavora nel mondo del fumetto, per esempio. E' quello che poi sta accadendo in questi ultimi anni. I produttori di Hollywood si sono accorti che i fumetti sono delle grandi sceneggiature, delle grandi storie, già belli pronti. Per cui al di là dei personaggi famosi, dai Fantastici 4 a Superman, ma anche soltanto l'attenzione che viene data alle graphic novel, Alan Moore ha il suo attivo, non so quante, no, un tot di riduzione cinematografiche più o meno riuscite dei suoi fumetti, ma i fumetti sono, cioè lo storyboard è una fase della produzione cinematografica. Il fumetto è già uno storyboard, nel bene o nel male, già bello pronto. E quindi è l'attenzione dei produttori, che sono magari sempre più a corto di idee, eccetera, così, è stata catalizzata negli ultimi anni da questo, dal fumetto e con risultati alterni, bisogna dire, però anche validi, anche soddisfacenti. Sì, peccato che sia successo per il momento soltanto in America, insomma, che il mercato italiano non ne abbia beneficiato in nessun modo.